In collaborazione con Studio Q Consulenze Finanziarie. Con Antonello Cattani parliamo di inflazione e taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Quali sono gli ultimi aggiornamenti partendo dall'Europa? Sì, allora guardiamo in questa prima diapositiva, vediamo un po' come è stato l'andamento dell'inflazione in questi anni. Diciamo che i primi rialzi si sono avuti nelle satre del 2021, come vediamo in questo grafico, poi hanno toccato il loro picco nell'autunno 2022, ricordiamo il costo del gas, bollette alle stelle e attualmente diciamo che gli ultimi dati a gennaio parliamo di un 2,8, quindi siamo sostanzialmente tornati al livello dell'estate 2021, quindi questo diciamo che sta alimentato le speranze di un taglio dei tassi. L'inflazione diciamolo tra parenti, quindi da cosa è stata determinata? Fondamentalmente dalle politiche espansive delle banche centrali attuate nel periodo Covid e post-Covid e anche in parte dallo scoppio della guerra in Ucraina che ha determinato appunto un aumento del costo delle materie prime anche se poi alimentato anche dalla speculazione. Cosa ci aspetta adesso quindi a livello europeo? Dicevamo che c'è un'aspettativa di taglio dei tassi anche se come vediamo da queste diapositive un pochino sia alla Garda che altri vertici della BCE stanno un attimino frenando quindi dicendo sì i tassi non aumenteranno, ci sarà molto probabilmente un taglio però diciamo che l'altra variabile che si sta valutando è quella del mercato del lavoro ovvero come vediamo in questo grafico il tasso di disoccupazione in Europa sono dati a Eurostat e ai minimi dal 2008 quindi questo diciamo che tra virgolette da un lato è un bene perché vuol dire massimo occupazione dal punto di vista dei numeri diciamo che potrebbe creare nuove spinte inflazionistiche quindi la BCE diciamo che un attimino vuole verificare questo andamento quindi queste sono un po' le motivazioni per cui mentre a dicembre c'era quasi la certezza di un taglio dei tassi imminente adesso si tende un pochino a rinviare la questione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti invece si parla di atterraggio morbido? Hanno meno urgenza di tagliare i tassi oltreoceano? Diciamo che in America la situazione è per aspetti simile nel senso che l'aumento dei tassi c'è stato anche oltreoceano anzi è stato più forte perché mentre in Europa siamo attualmente tassi intorno a un 4% in America siamo oltre al 5% anche in questo caso diciamo che nel mese di dicembre si era alimentata la possibilità di un taglio di tassi imminenti in realtà anche recentemente Powell della Federal Reserve ha detto che è presto per un taglio dei tassi che probabilmente se ne parlerà nei prossimi mesi. Anche in questo caso la motivazione è data appunto da una crescita economica maggiore vediamo che il PIL americano è sopra le attese mentre in Europa abbiamo una situazione diciamo più deficitaria abbiamo la Germania in recessione, l'Italia con una crescita praticamente zero negli Stati Uniti invece il PIL è diciamo in buona salute e anche in questo caso abbiamo una tasso di disoccupazione ai minimi per cui diciamo che l'urgenza tra virgolette di tagliare i tassi sembra meno imminente quindi potrebbe il costo del denaro rimanere più elevato anche negli Stati Uniti. Catani come possono comportarsi gli investitori durante i periodi di recessione? Allora sì diciamo che al momento in America la recessione sembra scongiurata in Europa un po' meno perché come dicevo prima alcuni Stati, vedi Germania lo sono diciamo che nei periodi di recessione diciamo che non c'è una regola scritta fissa però normalmente nei periodi di recessione il mercato azionario soffre quindi tende a calare mentre l'obbligazionario viceversa si apprezza mentre nelle fasi di espansione economica avviene un po' il contrario cioè il mercato azionario tira di più e l'obbligazionario invece ne risente. Diciamo che come diciamo sempre in questi casi il buon consiglio è sempre quello di fare una corretta pianificazione proprio perché i rischi ci sono perché come vediamo le variabili sono all'ordine del giorno, ogni giorno diciamo che escono notizie nuove in questo ambito e anche in altri di conseguenza l'unico modo per tutelarsi è quello di fare una corretta pianificazione quindi andando a vedere se ci sono degli investimenti in essere, le componenti azionari e obbligazionari come sono quindi fare una pianificazione per eliminare rischi e ridurre i costi e quindi tutelare al meglio i nostri risparmi.